Una ricetta facile e saporita. Potete acquistare le seppie già pulite e introdurre una variante servendo le seppie in umido su un crostone di pane. Quando le scegliete, le seppie più piccole solitamente sono anche le più tenere. Ingredienti 1 kg di seppie piccole 1 cipollotto 1 spicchio d'aglio 1 rametto di prezzemolo olio extravergine d'oliva 1 bicchiere di vino bianco secco 125 g di olive nere 250 g di pomodorini 100 g di passata di pomodoro sale pepe Esecuzione facile tempo preparazione 30 minuti tempo cottura 45 minuti porzioni 4 Le seppie in umido sono una ricetta facile e super gustosa, che esalta questi molluschi teneri e dal sapore delicato con ingredienti semplici e genuini come la salsa di pomodoro, i pomodorini e le olive. Un piatto perfetto per un pranzo in famiglia, sia servito come secondo sia come piatto unico. Pulire le seppie è più semplice di quanto sembri, basta togliere gli occhi, spellare la testa ed eliminare l'osso. Il passaggio più delicato è asportare il sacchetto che contiene l'inchiostro, bisogna fare attenzione a non romperlo. Se non vi sentite sicuri, fatevelo togliere quando acquistate le seppie. Se invece lo eliminate da soli, conservatelo per utilizzare l'inchiostro in qualche preparazione al nero di seppia. Una ricetta simile a questa delle seppie in umido, ma caratterizzata dalla presenza dello zenzero, è quella delle seppie allo zenzero. Mentre le seppie in zimino, di origine ligure, hanno biete e sedano fra gli ingredienti. Classiche anche le seppie con i piselli. Per recuperare il nero, invece, potete cucinare un riso nero con le seppie. Per preparare le seppie in umido, iniziate pulendo le seppie eliminando il becco e, se non è stato fatto al momento dell'acquisto, eliminate anche il sacchetto con il nero. Tagliatele poi a metà, in caso siano grandi, anche in tre o quattro parti. Tritate finemente aglio, cipollotto e prezzemolo. In una casseruola scaldate l'olio, aggiungete il trito preparato e fatelo appassire. A questo punto aggiungete le seppie, rosolatele per qualche minuto e sfumate con il vino. Unite i pomodorini lavati e tagliati a metà e la passata di pomodoro e aggiustate di sale e pepe. Lasciate cuocere a fuoco dolce per circa mezz'ora. Aggiungete le olive nere, abbassando al minimo e lasciando ancora in cottura altri 10-15 minuti. Servite le seppie in umido con un giro di olio extravergine di oliva e una spruzzata di prezzemolo fresco tritato finissimo. Cosa sta bene con la seppia? Le seppie sono come il nero, stanno bene con tutto. Con la pasta, con il riso, con i cereali in chicco o con le vellutate di verdure, quindi con patate, piselli, ceci, cipolle, eccetera. Cosa bere con le seppie in umido? Un bianco leggero, caratterizzato dalle note fruttate delicate e moderatamente sapido come il vermentino è ottimo per legarsi al sapore delicato del piatto. Un'altra possibilità è un bianco strutturato come il pecorino, dal sapore ricco e persistente ma bilanciato, in grado di creare il giusto equilibrio con il piatto.